Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video sugli Snapshot Oggi siamo con lo Snapshot 15v47a, uscito questa settimana normalmente quindi non c'è stato nessun ritardo come le altre volte Snapshot che in questo caso aggiunge molti bug fixes, quindi fixa molti problemi Ma aggiunge anche delle cose più o meno interessanti a partire dalla prima cosa che vi vado a mostrare Vale a dire la trasparenza nelle skin Cosa significa trasparenza nelle skin? Significa che d'ora in poi non avremo la skin trasparente evidentemente Ma se voi ricordate noi abbiamo dalla 1.8 il doppio layer per quanto riguarda le skin Quindi se voi andate in skin customization o personalizzazione skin presumo in italiano Abbiamo tutti questi bottoni che indicano appunto il secondo layer, il secondo strato delle skin Che ora potrà essere trasparente E la cosa vale sia per la testa che per le braccia, le gambe, il torso del personaggio, un po' per tutto Vi faccio vedere un esempio ma prima vi faccio vedere questo La mia trasparenza Ecco questa cosa non dovrebbe succedere in realtà perché è un bug Se voi vedete, se io guardo il personaggio dal basso, no, dall'alto Ecco è normalissimo Però così si crea, se abbasso la visuale si crea un problema di rendering Per il quale appunto la mia skin, il secondo layer diventa trasparente Vediamo se riesco a farvelo vedere zoomato Tipo così, ecco Vedete che c'è una trasparenza Quindi questo è quello che si intende per trasparenza La possibilità di avere uno strato aggiuntivo sulla skin Però in trasparenza E voi direte che minchia me ne faccio Pensate per esempio la possibilità di fare un'armatura di vetro attorno al personaggio Oppure dei semplici occhiali Come vi farò vedere in un'immagine che vi metto in sovraimpressione O per esempio fare una sorta di casco, di visore, tutto di vetro Come il personaggio di story mode Quello lì che griffa tutto Mi sembra Magnus si dovrebbe chiamare In ogni caso non vi preoccupate Questa cosa che vedete schifosa Che tra l'altro si vede anche dietro È solo un errore di rendering Tra l'altro ho notato anche degli errori di rendering Nella visualizzazione delle skin degli animali Che adesso in questo caso funzionano Ma tipo prima c'era una pecora trasparente Che è stato stranissimo E addirittura per quanto riguarda l'entità Come le ceste Sono tutti difetti Che verranno corretti Presumo o nel prossimo snapshot O in un'eventuale versione correttiva Vale a dire uno snapshot B, C eccetera eccetera Vi faccio vedere anche Che se io prendo le armature E vado a indossare queste quattro armature Anche in questo caso notiamo della trasparenza Così è tutto normale Ma vedendo da questa visuale L'armatura diventa trasparente In particolar modo quella di diamante Che avrebbe anche senso avere una trasparenza Perché comunque il diamante è trasparente Più o meno Dipende dalla colorazione Ma in genere è trasparente Però non vi preoccupate Lo so che fa schifo E anche in questo caso è un bug di rendering Verrà tutto sistemato E la novità riguarda solo le skin Sempre che voi lo vogliate Se no ve le tenete come sono Normalissime E nessuno si incazzerà Questa novità potrebbe passare Come stupidaggine Ma in realtà vi assicuro Che è un qualcosa di rivoluzionario Per quanto riguarda La personalizzazione del personaggio Io vorrei subito sperimentare Magari mettergli degli occhiali Trasparenti Però non avrebbe senso Con la mia skin Il che è un po' un peccato Però insomma è una cosa Che si può fare Nel report Della versione Vi dico anche che c'era scritto Che è stato fatto qualcosa In preparazione Alle feste natalizie Io ho messo La data del pc Al 25 dicembre Quindi a Natale E non ho notato nulla di nuovo Per quanto riguarda Natale Queste ceste natalizie Esistono già da qualche anno Quindi non ho notato Nessuna differenza Nella scorsa versione I blocchi di redstone Erano buggati E in situazioni di questo tipo Per esempio Redstone di fianco Al comparatore Quindi non dietro Che dovrebbe funzionare Ma di fianco Alimentava lo stesso Il comparatore Che come vedete È un bug Che è stato risolto E allo stesso modo C'era questo bug Per il quale Il blocco di redstone Dava un potere Diciamo Di segnale Attivo Ai blocchi solidi Vicini Quindi un circuito Di questo tipo Funzionava Per via del bug E il segnale Passava attraverso la pietra Ovviamente questa cosa È stata corretta Anche se non escludo La possibilità Che in futuro Possa venire aggiunto Qualcosa Che faccia funzionare Anche un sistema Di questo tipo Vi faccio anche vedere Che il blocco di redstone È totalmente funzionante Per cui se per esempio Lo spingiamo qui sopra Alimenta tutti i blocchi Attorno a sé Che siano Lampade Dispenser Pistoni Semplicemente hanno Corretto Questa problematica Breve novità Per quanto riguarda Il beacon C'è ora La possibilità Di mettere Qualsiasi oggetto In questo slot Ovviamente Non lo puoi fare Tu in automatico Per esempio Se io prendo Il blocco di redstone E lo metto qui Non ci può entrare Perché richiede solamente Questi oggetti Ma lo puoi fare Tramite comando E il comando È esattamente Questo qui Un set block Settato per creare Un beacon Con questo nuovo parametro Che si chiama Payment item Quindi l'oggetto di pagamento Inserito nel Nel beacon stesso Che può essere Settato a quello Che volete voi In questo caso Minecraft Due punti stone Per il blocco Di pietra Infine abbiamo Un cambiamento Molto utile Per quanto riguarda I pannelli solari Che se prima Funzionavano in base All'ora del gioco Ora funzioneranno Veramente Tramite la luce Quindi a seconda Della potenza Della luce Che si Si trovano attorno Diciamo E metteranno Un dato Segnale di redstone In questo caso Io ho Un pannello solare Qui Uno qui Lo espongo Alla luce solare Vedete che Entrambe le lampade Si illuminano Ma se io lo tengo Oscurato qui dentro E vi assicuro Che la lunghezza Dei percorsi Potete vederlo È la stessa In questo caso La lampada Di sinistra Non si accende Quella di Di destra Si accende Perché ovviamente Il blocco è alimentato Dalla luce solare Diretta Mentre in questo caso Il segnale più debole Perché il pannello solare È coperto Da della stone E quindi ha solo Una luce Un po' più Debole Diciamo E per questo snapshot È tutto Ragazzi Prima di Finire il video Come al solito Ho fatto di nuovo Una piccola ricerca E ho notato E ho notato Due cose Che vi dico Allora Una piccola Dimenticanza È il fatto Che l'armatura Che si vede In trasparenza Come abbiamo visto Prima È un bug Però volendo La si potrà Rendere trasparente Tramite resource pack Quindi quella È una scelta Del giocatore Però quella standard È solamente Buggata Per il resto La novità Che in realtà È una correzione Natalizia Era il fatto Che le trapped Chest Non avevano La texture Del regalo Appunto Il giorno di Natale Adesso come vedete Entrambe le ceste Hanno questa texture Che in realtà Era solo una correzione Per il resto Lo snapshot È tutto Bug fixes Poco interessanti Perché me li sono letti Tutti questa volta Non c'è nulla Di importantissimo Da mostrare Nel caso Comunque Trovate tutto Sul blog Della Mojang Come sempre E per cui Ragazzi Questo video Finisce qui Se vi è piaciuto E vi è interessato Lasciate un like Condividetelo Per far girare Un po' Queste informazioni E commentate Per dirmi Che cosa ne pensate Di questa novità Soprattutto Per quanto riguarda La trasparenza Nelle skin Che vista così È una merda Perché è buggata Ma è in realtà Una grande figata Detto ciò Io vi saluto Ci vediamo stasera Con il ritorno Di catering Sul canale E domani Con nuovi video Un saluto Da Eren Blaze Ciao 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 Ciao